Di Superliner riporta fedelmente le caratteristiche che lo hanno reso celebre e amatissima in tutto il mondo, una punta in feltro, sottilissima, il design ergonomico e un tratto che più intenso non si può. Con l'aggiunta di una durata eccezionale e una punta ancora più definita, l'Oreal Perfect Slim by Superliner è l'eyeliner che aspettavamo da punto 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 sempre. L'erede del celebre eyeliner di casa l'Oreal si rifà il look e promette una resistenza maggiore, 5 colori ancora più intensi e una punta in feltro che si adatta alla forma dell'occhio, pronta a scoprirlo? L'Oreal Perfect Slim by Superliner, il tratto è ultra slim. Tra le novità più attese e già considerato tra i migliori eyeliner del 2021, Perfect Slim by Superliner è un eyeliner pennarello dotato di comodo applicatore in feltro che si adatta ad ogni tipo di palpebra, waterproof, resiste ad acqua e umidità con una tenuta estrema di 24 ore. Per make up impeccabili e ultra definiti, è l'eyeliner ideale per creare tratti precisi e intensi. Grazie alla punta pennarello è maneggevole e pratico da usare, adatto anche a chi è alle prime armi e vuole imparare ad usare l'eyeliner senza difficoltà. Rispetto al classico Superliner, il tratto di 0,5 mm assicura maggiori prestazioni e una precisione estrema nella creazione di linee e curve. L'eyeliner che si adatta alla forma dell'occhio, l'Oreal Perfect Slim by Superliner è un eyeliner moderno, pensato per realizzare qualsiasi tipo di look e adatto per essere usato su ogni sguardo. Valorizza il make up ed esalta la forma dell'occhio, lo allunga e intensifica anche il trucco più semplice. Grazie alla punta in feltro, scivola fluido sulla pelle e non crea macchia né sbava per look impeccabili. Ogni giorno, tutto il giorno, 5 nuance super intense. Il nuovo L'Oreal Perfect Slim by Superliner è disponibile in 5 diverse tonalità, tutte super pigmentate e intense, 0-1 intense. Black, nero 0-2 grey, grigio 0-3 brown, marrone 0-4 deep blue, blu profondo 0-5 till blue, blu, verde, il design è elegante e minimalista, snello ed essenziale. Proprio come l'essenza di questo eyeliner unico nel suo genere. Prezzi e disponibilità. Il nuovo Perfect Slim by Superliner L'Oreal sarà disponibile alla vendita a partire dal mese di aprile 2021 al prezzo indicativo di 11,99€. Torna per saperne di più, su questi canali è in arrivo una recensione molto speciale. See you soon. Potrebbe interessarti anche, catfon di Tattoo Liner, recensione swatch prodotto ampuller impolpanti L'Oreal con acido ialuronico, recensione completa eyeliner glitter, come utilizzarlo al meglio durante le festività natalizie L'Oreal Air Volume Mega Mascara La, recensione completa Pupa Vamp, mascara sexy lashes volumizzante e incurvante, recensione.